Nomine Patris e Filii e Spiritus Sancti, Amen. Signore Gesù, ci mettiamo come il giorno la tua Santa Divina Presenza, ringraziandoti anzitutto per il dono di poter fare la meditazione, un esercizio importantissimo della nostra santificazione personale, in attesa di avere la nuova volta e la luce di questi splendidi insegnamenti, di questa splendida opera. E cominciamo come sempre con il riconoscersi bisognosi della tua misericordia e del tuo Santo Spirito. Siamo nell'ottavo di Pentecoste che ieri abbiamo celebrato e che è sempre necessario alla nostra vita per illuminarci, guidarci, condurci avvicinamente l'intelletto, farci comprendere e poi soprattutto anche farci mettere in pratica le cose che ascolteremo. Deus meus est protocorde penitet me, omnium aurum peccatorum, e aque te testo, ti è peccando non solo un penas, a te iust est statutas pro meritus sum, e per certi qui offendi te sum un bonum, qui super omene di caris, i teo firmi te propona di vante grazia tua, eccetera o meno un peccatorum, peccandico occasiones prossimo sfuggiturum, Amon, Deus meus, no, veni creato spiritus mentest vorum, visita imple superna grazia, que tu creasti pectora, che dice di sparacitus, donum Dei altissimi, fons vivus in iscarita spiritualis unsio, tu septiformis munere, digitus paterne lextere, tu rite promissum patris, sermone di la scultura, cende lumen sensibus infunde, amore encordibus, infirma nostri corporis virtute, firman ster perpelli, ostem repella slongius, facenque donas protimus, truttoresi te preio, i teus omni noxium, per te sciamus da patrem, nos camus atque filium, te putriusque spiritum, credamus omni tempore, Deo patrisi teori, ac filio che amortuis, surrexit ac paracito, in seculorum secula, Amon, mit spiritum tuan creabuntur, et renovabis facen terre, Amon, dalla vita interna di Gesù Cristo, di sua Maria Cecilia Bani, libro secondo capitolo secondo, come si comportava il figlio di Dio nel suo interno, dall'arrivo a Nazareth fino a 12 anni, parte nona, colloquio con il padre, e vedremo se anche preghiere in famiglia, ma sarà difficile, licenziatemi dalla diletta madre, mi ritiravo solo a pregare, mentre essi lavoravano ancora, per guadagnarsi il vitto necessario, anche se la loro mente era con me unita nell'orazione, specialmente quella della diletta madre, che con una luce superiore penetrava tutto ciò che io stavo operando, e si univa a me a pregare. Il solito stavo con le ginocchia in terra, col capochino in atto umile e riverente alla presenza del padre mio, con le mani o giunte, o incrociate sul petto, e l'olpio delle volte in forma di croce, per tenere in mente la maniera con la quale già era decredata la mia morte in quella posizione. Mi ponevo alla presenza del padre mio, e quantunque vi stessi sempre, non di meno nell'atto di pregare mi ponevo in modo più speciale e supplichevole, perché facevo tutto per i miei fratelli. Rappresentavo le loro persone alla presenza del padre mio. Prima l'adoravo a nome di tutti, invocavo il suo aiuto. Molte volte trovo il padre molto adirato per le offese che continuamente riceveva, e mostrava verso di me il suo rigore, mentre io gli rappresentavo tutto il genere umano. Mi trafiggeva il cuore vedere lo sdegno del padre, ed io allora, prostrato con la faccia a terra, con lacrime e sospiri, lo pregavo di placarsi, offrendomi a soffrire i colpi del suo sdegno, gli ripetevo spesso, è pronto il mio cuore, oh Dio, padre mio amatissimo, giusto è il vostro sdegno, mentre innumerevoli sono le offese che di continuo ricevete. ma vi prego di placarvi, e sebbene io vi rappresento la persona di tutto il genere umano, ricordatevi però che sono il vostro unigenito figlio, e come tale guardatemi, e per quel compiacimento che mi avete, per l'obbedienza che io vi ho pensato nel farmi uomo, per queste lacrime e sospiri, vi prego di placare il vostro sdegno, rivolgete anche lo sguardo alla mia vita che mi sta innanzi così piena di stenti, alla passione dolorosa, alla morte penosa, se questo non è sufficiente a placarvi, seguiti pure il vostro sdegno, e riversate sopra di me i più duri flagelli, perché io sono pronto a soffrirli, per rendervi placato, e per soddisfare le offese che voi di continuo ricevete dal genere umano. Si internava a queste suppliche, padre mio, e di fatto si dimostrava placato, abbracciandomi con paterno amore, come suo vero figlio, dichiarando di avere in me tutto il suo compiacimento. In questo atto amoroso, si mostrava placato, anche con il genere umano, avendo ricevuta da me la dovuta soddisfazione a nome di tutti. Vedendo il padre placato, continuò a supplicarlo, perché in virtù degli atti fatti da me, tanto a lui graditi, si degnasse di dare un simile sentimento a tutti i miei fratelli, affinché quando si accorgono che lui è adirato con loro per le offese ricevute, si uniranno al suo cospetto e facciano quegli atti che devono per placare la sua ira, offrendogli i miei meriti. Si mostrano anche pronti a dargli la dovuta soddisfazione, pronti a soffrire tutte quelle pene che per le loro colpe invia la divina giustizia. Con questi atti resta maggiormente placata l'ira di Dio. Il padre si mostrava condiscendente alla mia richiesta e non mancava di dare luce e grazie ad ognuno per esercitare gli atti suddetti. Anche se molti non ne fanno conto e perciò non hanno i dovuti effetti, non di meno non lascia mai l'amoroso padre di far tutto quello che mi aveva promesso. Ma è tanto grande la miseria umana e tanto si lascia accecare dalle proprie passioni ed amore di se stessa che si rende insensibile non solo alla grazia e alla luce che le dà il padre mio, ma anche ai colpi dell'ira sua, attribuendo ora un accidente ora all'altro ciò che ha inviato loro dalla giustizia divina. Ma guarda, chiedo scusa, mi è proprio scappata questa qui durante la lettura. Dopo ci divertiamo durante la meditazione, guardate amici miei. Non volendosi rabbedere ed umilare con la luce e con le grazie, si umilano e si rabbedano con i castighi. Vedevo tutte queste cose e ne sentivo molta pena e supplicavo il padre ad avere pietà di tante miserie che vedevano i miei fratelli. Il padre si mostrava molto ammirevole in queste e mi faceva vedere come lui fa tutto quello che è necessario perché ognuno possa vivere santamente. E mi diceva, amato figlio, che cosa devo fare di più che io non faccia? Perché ognuno si salvi? Che amore, che sollecitudine più premurosa devo avere anche io che io non abbia. Verso ognuno in generale, in particolare, secondo i bisogni di ciascuno. In realtà vedevo quanta cura e quanto amore e sollecitudine al padre mio di tutte le sue creature. Ne restava molto confuso da parte loro e lo ringraziavo a nome di tutti. Secondo quanto avevano ricevuto dal padre mio. Laudentur Jesus et Maria. Carissimi amici, è stata una saggia decisione evidentemente quella di non preannunciare il paragrafo successivo perché su quello che abbiamo letto potremmo starci a meditare penso fino a tarda serata per essere, diciamo così, generosi. Purtroppo dovrò fare inevitabilmente una piccola personalizzazione perché il tempo è sempre garantuomo, figlioni miei cari. E Dio a volte rende giustizia anche sulla terra di certe cose, certamente a chi vuole ascoltare. Allora, in diretta sono collegate adesso 80 persone non so quanti sentiranno questa meditazione le meditazioni non sono molto gettonate però eventualmente si può anche pensare di diffonderla. Qualche tempo fa io feci un'omedia dove proprio accennando al bel capolavoro fatto in Francia da parte di chi ha pensato di dover mettere come diritto costituzionale l'aborto dissi che la misericordia di Dio è grande e la sua pazienza è infinita ma poi quando lo si provoca in maniera estrema può darsi che mandi qualche piccolo avvertimento e segnale per farla vedere alle persone che se non capiscono con la misericordia poi dovranno passare per la giustizia. il discorso non era così come dire violento mi cominciano a mandare sul canale Telegram anche tanti amici link sul link di un video di una persona vestita da idraulico da data laica poi si capivo però durante il video che era un prete che mi ha praticamente ridicolizzato e presentato come una sorta di pazzo furioso scatenato malato di mente perché osa parlare dei castighi di Dio quale idea di Dio c'ha che cosa pensa questo dentro il cervello che c'ha cosa c'avrà questo qui era tutto quanto preoccupato perché qualcuno le aveva telefonato in lacrime ho parlato in lacrime perché ho sentito questa cosa io sono sconvolta che è successo è il panico beh io le consiglio di non leggere né la vita interna di Gesù Cristo né di suo Cecilia Bai meno che mai il paragrafo di oggi anche a quel sacerdote ma insieme a loro di non leggere e nemmeno il 90% degli iscritti dei santi o delle opere santi canonizzati attenzione eh non rivelazioni private non che mistici ma poi li consiglierei anche adesso oggi c'è proprio una chicca eh di di non celebrare nemmeno la messa in novus sordo il novus sordo perché anche se nel novus sordo come già ho avuto modo di dire termini come placato soddisfatto giustizia ira di Dio sono stati sistematicamente eliminati e ci sono degli studi per chi vuole approfondire questo qui studi comparati cioè che comparano le preghiere antiche e quelle nuove perché una piccola parte di preghiere antiche piccola sono rimaste nel messare nuovo molte sono state eliminate guarda caso proprio quelle che fanno riferimento a questi argomenti e tra quelle poche che sono rimaste quando fanno riferimento a questo argomento c'è qualche edulcorazione tra le cose caratteristiche del nuovo sordo tutti quanti sapranno che a differenza di come era un tempo c'era soltanto il canone romano il canone della mente la chiesa antiche non sono tante preghiere o calistiche tra cui le quattro più gettonate la tre è una delle più gettonate che sono state scritte in occasione della riforma liturgica allora io vorrei semplicemente ecco qua trovata subito farvi leggere il testo latino della preghiere o calistica tre che a un certo punto dice queste parole respice quesumus in oblazione mecclese tue et agnosciens hostiam cuius voluisti immolazione placari attenzione placari infinito passivo del verbo latino placare letteralmente letteralmente se si traducesse in maniera letterale dovremmo tradurre respice voggi lo sguardo ti chiediamo sull'oblazione della tua chiesa e agnosces hostiam riconosci hostiam con l'h maiuscola non è l'ostia la vittima vittima cuius voluisti immolazione placari dalla cui immolazione hai voluto essere placato quindi attenzione nonostante tutte quante le cose gli è scappata questa cosa nel testo latino perché quando sono state scritte queste cose insomma ancora eravamo non era ancora proprio volete sapere la traduzione volete sapere la traduzione e adesso la legge la traduzione è lingua corrente del nuovo messale quindi respice quesumus inoblazione mercresi tu e tagnosce sostiam qui sull'istimolazione placare andiamo a vedere quindi attenzione questo si trova per quanto riguarda i supermodernisti che fanno le critiche nella preghiera eucaristica tre quindi frutto del novus sordomis proprio in maniera assoluta capito quindi non è roba da medioevo è roba da 1969 in poi allora vediamo la preghiera eucaristica tre come è stata tradotta lì bene guarda con amore riconoscendo l'offerta della tua chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione vittima c'è immolata c'è ma placari voluisti non c'è placari non c'è per la nostra redenzione si può andare a vedere fate attenzione quando ascoltate ripeto che il testo latino è guarda con amore respice respice significa sì guarda con attenzione più che con amore fissa lo sguardo basta prendere il d'accordo i marietti prendete il dizionario di latino che preferite se non mi credete oppure andate online a cercare respice vedete quello che significa respice questo è un'oblazione ma se tu ripeto guarda ti chiediamo nell'oblazione nell'offerta della tua chiesa e agnosce se riconosci la vittima per la cui immolazione hai voluto essere placato hai voluto tra l'altro essere placato quindi è stata volontà di Dio Padre essere placato tramite un sacrificio espiatorio chiaro? scusate se mi altero questa tra l'altro è una meditazione non è una catechersi adesso torneremo ai toni placati ma capite? a me non importa niente di essere diffamato e di essere infamato infatti non gli proprio rispondo a sta gente qui non c'ho niente da dire perché io non parlo a nome personale questo ha presentato questa dottrina cattolica al 100% come mie farneticazioni ne risponde davanti a Dio davanti alla chiesa anche all'autorità della chiesa e davanti alle anime che si ascolteranno le farneticazioni di questo tizio senza andarsi ad informare andranno in rovina ok? ma facessi un altro video tanto non non lo calcolo proprio però per amore di verità alcune cose bisogna dirle adesso andremo a scorrere tutto quello che Gesù ma capite? allora mi riservo di dire qualcosa sulle atteggiamenti del corpo nella preghiera ma vogliamo contare quante volte ricorre in questo in questo brano il termine placare io spero che uscirà un giorno la versione digitale di questo perché la versione digitale dei libri c'ha questa grande comodità che tu ti vai a vedere placare placato e ti puoi dire le ricorrenze quante volte ricorre una roba di questo genere io sarei proprio curioso perché se avete notato è un continuo Gesù non faceva nientà tutto il giorno fa così tutto il santo giorno qui Gesù è ancora un bambino la croce è lontana il sacrificio della croce è ancora molto lontano nel tempo e già non pensa altro da mattina alla sera non fa altro da mattina alla sera e attenzione non è che lo fa perché non c'è niente da fare perché il padre cominciamo molte volte trovavo il padre molto adirato ah quindi esiste l'ira di Dio ma certo che esiste l'ira di Dio l'ira di Dio la stessa scrittura ne parla in continuazione l'ira furiosa di Dio onnipotente si legge nella sagra scrittura mi ricordo il libro dell'Apocalisse vedete quando siamo nelle cose in digitale basta che scrivo ira furiosa e faccio un bel click e trovo subito il versetto dalla bocca gli esce una spada affilata per colpire con essa le genti il libro dell'Apocalisse questo è il cavaliere bianco quindi il nostro signore egli le governerà con scettolo di ferro e pigerà nel tino il vino dell'ira furiosa del Dio onnipotente questo è il libro dell'Apocalisse non si possono prendere i passi biblici e buttarli non si sa dove perché a me questa cosa non piace ma anche a me piace sentire questa cosa io non sono mica affatto contento di questa roba qui io non vorrei mai trovarmi dinanzi all'ira di Dio non sono mica contento ma devo sapere che ci sta devo sapere che c'è e quindi e mostrava verso di me il suo rigore vogliamo andarla a chiedere al nostro signore Gesù Cristo cos'è il rigore della divina giustizia vogliamo andargli a chiedere come è stato il venerdì santo sti criminali che non sono altro che cos'è il rigore della divina giustizia che aspetta a me e a te se l'è preso lui se l'è preso per tutta la vita Gesù non è morto di sonno Gesù è morto in croce sapete la battuta e me la dico che fece un fedele devoto un po' sarcastico che adesso i vescovi hanno questa moda che portano il crocifisto nel taschino portano il clergyman e il crocifisto nel taschino io non ho mai capito da dove viene sta moda molto brutta molto non bella e io lo dico pure in faccia se mi capita qualcuno non c'è nessuna paura perché non mi sembra cercare la croce mostrala quella non è per essere tenuta nel taschino è per mostrarla sapete chi gli disse un fedele a un vescovo non lo raccontare adesso il prelegrinaggio i giorni scorsi scusa eccellenza ma io sapevo che Gesù Cristo è morto in croce giusto? certo figliolo perché me lo chiedi? è perché Gesù Cristo non è morto di freddo quindi può anche togliere il crocifisto dal taschino non c'è freddo Gesù il rigore della divina giustizia e glielo mostrava già quando era un bimbo di 5 anni e lo pregavo di placarsi è uno è uno offrendomi a soffrire i colpi del suo sdegno ah che il Signore si sdegna il Signore si sdegna no 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 concetto medievale allora riprendiamo Bible Lab perché c'è un salmo che si chiama il salmo 2 no? uh perché reggenti congiurano a un certo punto dice che non si sdegni e voi perdiate la via improvvisa di vampa la sua ira beato che in lui si rifugi no lo andiamo a trovare subito guardate adesso questo non c'è manco bisogno che faccio la la citazione perché questo è il salmo 2 ve lo leggo vi do la citazione così poi uno va tranquillamente a controllare e poi si informa un po' no? perché capite? allora ok c'è l'applicazione che sta facendo un po' di capricci ok però adesso l'abbiamo regolata allora salmo 2 la parte conclusiva versetti 10 e 12 e ora sovrani siate saggi istruitevi giudici della terra servite Dio con timore e con tremore esultate sta parlando dei sovrani e dei giudici tra l'altro eh io nella famosa omilia parlavo di governanti ok e dice siate saggi istruitevi servite Dio con timore perché questo devono fare i governanti anche i governanti della laicissima Francia che si fanno un titolo di merito del infischiarsene di Dio della sua legge dai tempi della rivoluzione francese in poi ma sono tenuti lo stesso ad osservarla anche se non vogliono perché è per questo che stanno lì anche se non ci credono e anche se non lo vogliono e conclude che non si sdegni e voi perdiate la via improvvisa divampa la sua ira beato che in lui si rifugge forse anche questo dovrebbe ascoltare quel sacerdote magari metterlo come sottotitolo della sua critica al contenuto famoso quindi Dio si sdegna certo che Dio si sdegna ha voglia che si sdegna ha voglia che si sdegna ha voglia ha voglia che si sdegna ancora Gesù prega e per cui al compiacimento che mi avete vi prego di placare il vostro sdegno rivolgete lo sguardo alla mia vita che mi sta dinanzi così piena di stenti alla passione dolorosa alla morte penosa attenzione e se questo non è sufficiente a placarvi a non basta manco questo seguiti pure il vostro sdegno e riversate sopra di me i più duri flaggelli che io sono pronto a soffrirli per rendervi placato ancora e per soddisfare l'offese che voi di continuo ricevete dal genere umano ma ce le abbiamo le orecchie? ma la parte più bella deve ancora venire il padre si mostrava placato uno in questo atto amoroso si mostrava placato ancora due sentite quante volte ricorre il termine placato poi attenzione arriviamo proprio al cru a quello che mi ha fatto scappare proprio quella vedendo il padre placato continuavo a supplicarlo perché in virtù degli atti da me fatto e tanti a lui graditi si degnasse di dare un sumo di sentimento ai nostri fratelli cioè deve darci gli stessi sentimenti di Gesù quelli che ho predicato io il pazzo furioso capite che non sentitelo che se no vi fa sentire male capite speriamo che qualcuno intervenga affinché quando si accorgono che lui è adirato perché dobbiamo accorgersi di quando lui è adirato anche con noi con loro per le offese ricevute si umilino al suo cospetto capito no misericordia 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 e l'ho già appena ascoltato che ho ceduto la misericordia senza manco chiedergli perdono ma chi te le ha dette queste cose qui chi te le ha dette si umilino al suo cospetto e facciano quegli atti che devono per placare la sua ira devono farli per placarlo anche noi dobbiamo farli non solo lui offrendogli anzitutto i miei meriti no perché la coroncina di una misericordia è una preghiera tanto per la sua dolorosa passione abbia misericordia di noi la coroncina al preziosissimo sangue sono tutte tante offerte che noi facciamo di cosa anzitutto dei meriti del Signore che è sempre la prima cosa che dobbiamo offrire perché noi non abbiamo la capacità di placare la divina giustizia tuttavia si mostrino anche pronti loro a dargli la dovuta soddisfazione perché non per niente il sacramento della penitenza termina con la soddisfazione sacramentale che molti a quanto mi dicono nemmeno danno oggi addirittura per le confessioni generali non danno la penitenza ma l'hanno letti i penitenziati del primo millennio io ce n'ho uno di San Colombano che se mi girano un bel giorno San Colombano Abate dottore della chiesa e apostolo dell'Inghilterra vogliamo vogliamo discuterne e leggo il penitenziale suo ogni peccato la pena che c'era cioè anni di digiuno specialmente per i peccati anni di digiuno specie per i peccati impuri li vogliamo leggere pronti a dargli la dovuta soddisfazione pronti a soffrire tutte quelle pene che per le loro colpe invia la divina giustizia lo vogliamo far sentire a quel sacerdote pene che per le loro colpe invia la divina giustizia che cosa vogliamo fare chi c'ha ragione figlioli miei cari no io io non c'ho niente da dire io io non c'ho mai niente da dire questo questo per favore tutto io non ho mai io non esisto capite Don Leonardo Maria Pompei io non ho niente da dire di mio niente niente io se parlo e quando parlo è perché ho ascoltato qualcosa che ritenga autorevole capite come diceva Gesù la mia dottrina non è mia ma di colui che mi ha mandato io certamente non voglio certo pari che pari a farmi a domine Dio ma io ho questo modo di fare io non mi costruisco una mia idea di Dio come dice quello è lui che si è costruita una sua idea di Dio falsa e del tutto destituita di ogni fondamento e chi l'ascolta va all'inferno va rischia brutto rischia capito e con questi atti resta maggiormente placata a dire di Dio i nostri diciamo va bene va bene offriamo i meriti di Gesù no no offri prima i meriti di Gesù sempre poi offri anche i tuoi e ancora sentite cosa dice dopo qui mi è scappata proprio sentite ascoltate bene pagina 190 i riferimenti li ho già dati libro secondo capitolo secondo paragrafetto colloquio con il padre non a parte pagina 190 l'ultimo capoverso sentite che dice ma è tanto grande la miseria umana la nostra e tanto si lascia accecare dalle proprie passioni e amore di se stessa attenzione che si rende insensibile non solo la grazia alla luce che le dà il padre mio quindi noi siamo così idioti che non solo non capiamo quante grazie e quante luci dal signore le sprechiamo le buttiamo al secchio o peggio ma è meglio non dirlo ma attenzione si rende insensibile anche ai colpi dell'ira sua attenzione attribuendo ora ad un accidente ed ora all'altro ciò che ha inviato loro dalla giustizia divina avete capito cosa sta dicendo ripeto attribuendo ora ad un accidente ora all'altro ciò che vi ha avuto dal giusto dire cioè ho avuto un incidente eh che sfortuna eh che scalogna sfortuna scalogna sicuro che sfortuna scalogna ognuno di noi quando succede qualche cosa nella vita qualche domanda se la deve sempre porre si mette si mette in ginocchio in preghiera davanti al santissimo è successa questa cosa brutta signore ho fatto qualcosa oppure vuoi dirmi qualcosa che cos'è questa cosa c'è qualcosa che non va ai tuoi occhi oppure potrebbe anche essere una croce potrebbe anche essere una prova non è detto che sia tra virgolette un castigo può essere tante cose ma non possiamo escludere a priori che lo sia perché se io ho qualcosa di cui devo essere corretto e il nostro signore mi manda tante grazie tante grazie tante grazie io non ci sento se è una cosa importante il nostro signore poi non la deve far capire in qualche modo e lo fa in questo modo lo fa sta scritto qui ed è da stupidi quindi miseria e accecamento l'attribuirlo a circostanze fortuite è come se Dio stesse là sopra in paradiso dorme e non è coinvolto in quello che accade ma Dio è coinvolto e come in quello che accade Dio non sta in paradiso con le braccia conserte a pensare agli affari suoi capito? quindi se mi succede una cosa io ho il dovere di mettermi in preghiera e di dire non è detto che lo capisco però signor che è successo? ma provate a farlo ma quante volte io ho capito fin troppo bene anche quando erano castigli nei miei confronti perché io pure ce l'ho nessuno pensi che io sono poi perfetto o impeccabile ma quando mai? tutti ce li abbiamo queste cose qui a me mi sembra di aver capito molto bene in certe circostanze quello che era successo però chiaramente se uno lo esclude a priori seguendo certe cose tu non capirai mai niente capite quanto è grave una cosa del genere? attenzione ancora non volendosi ravvedere ed umiliare con la luce e con le grazie si umilino e si ravvedano con i castigli esattamente perdonatemi scusate se oggi cioè quello che io ho detto nella famosa media è quello che è stato oggetto di 40 minuti di ridicolizzazione scientifica sistematica con argomenti di alta psicologia e di alte questioni questa chiaramente su Orcecidabai magari qualcuno penserà che sarà una pazza squilibrata come hanno detto hanno chiamato pazze squilibrate Margherita Maria Lacocque e Veronica Giuliani che se uno veramente va a vedere le penitenze può anche venire di una tentazione del genere questa è una bestemmia questa qui perché dinanzi a penitenze così estreme tu non devi dire che questa è una pazza squilibrata bestemmiatore che non sei altro tu devi dire ma tu guarda questa fino a che grado è giunta a condividere le sofferenze del Signore per espiare i peccati per convertire i peccatori è un altro smontamento delle farneticazioni moderniste e folli di adesso ultima cosa che avevo promesso sì ci abbiamo qualche anno è stata bene le posizioni del corpo nella preghiera qui Gesù stava pregando avete visto che preghiera faceva Gesù offerte immolazioni sacrifici in continuazione unica preghiera fino adesso io non ne ho trovate altre fino adesso 190 pagine come pregava Gesù e come preghiamo noi allora mani giunte mani incrociate sul petto o mani in forma di croce io qui faccio mea culpa anche per me stesso io cerco di farlo qualche volta noi non possiamo metterci cioè come quando preghiamo non possiamo come dice Santa Teresa e ripeto qui lo dico anche a me e dobbiamo sempre fare i propositi e demandarci di queste cose tutti perché capita un giorno che tu c'hai fretta che possono succedere tantissime cose però quando uno si mette a pregare deve avere una riverenza interna un'attenzione della mente e una corretta posizione del corpo almeno durante la celebrazione questo cerco sempre da averlo avete visto che oggi quanti predi si mettono con le mani giunte bisogna stare con le mani giunte anche secondo il messare nuovo non è stata abrogata il fatto che tutte le volte che il sacerdote non ha le mani allargate deve stare con le mani giunte eppure i fedeli che stanno a messa dovrebbero trovare una posizione consona perché sta messa con le braccia concerte a me personalmente non è che mi sembra proprio il top non mi sembra un atteggiamento molto diverente molto devoto quando si fa la comunione un tempo si insegnava a incrociare le mani sul petto non allungarle per prendere l'ostia perché? perché è un gesto vedete lo faceva Gesù in primis è un gesto d'amore è un gesto che ci ricorda la nostra adesione alla croce la nostra volontà di vivere una vita crocifissa e anche perché non dà fastidio al sacerdote perché se tu vai a fare la comunione con le mani giunte non si deve fare perché? perché se si usa come obbligatorio nella messa in vetus e come raccomandato nel novus il piattino dove lo mette il piattino se tu hai le mani giunte davanti al mento? a mani giunte si sta dopo la comunione si sta durante la consagrazione o anche con le mani intrecciate cioè si sta durante la messa non durante la comunione l'atto della comunione mentre stai in fila va bene stai con le mani giunte ti metti in ginocchio se preferisci in piedi e prendi la comunione come Dio comanda in bocca incrocia le mani sul petto anche se non usano il piattino nella preghiera personale pregare a forma di croce quando Gesù lo faceva questa è una cosa che non si fa in pubblico perché a meno che io lo facevo negli anni passati in qualche bella veglia al borgo facevamo il rosario con le penitenze provate a fare un rosario che ogni decina allargate le braccia a forma di croce alla fine della decina si spaccano le braccia non riesce a fare tutto avanti alla corona senza mai fermarle noi facevamo una decina parti dal Padre Nostro e finisci con gloria al Padre poi a Gesù mio e quando non c'è il secondo mistero dei ripinati e poi ricominci ma è una penitenza impressionante o con le mani sotto le ginocchia o il rosario prostrato con la faccia a terra tutte queste cose facevamo al borgo bisognerà rifarle perché c'era un po' di gente anche in presenza alle veglia c'era una chiesetta con 40-50 persone molti dei quali giovani piena di gente abbiamo fatto pure queste facevamo tutta la chiesa tutta la gente prostrata durante la corona del rosario andava pure in streaming andava per dire quindi le posizioni del corpo nella preghiera sono importantissime perché il corpo parla nel dunque in quale libretto sta le posizioni del corpo nella preghiera mi sa in sacramentum magnum sì perché in sacramentum magnum c'è una sezione dedicata alla preghiera perché è la parte diciamo così il prequel del discorso sul sacramento del matrimonio perché quello è un corso prematrimoniale che è diventato un libro e ai corsi prematrimoniali tu a questi gli dici che è inutile che si sposano in chiesa non hanno un minimo di vita cristiana e quindi prima gli insegni un minimo di vita cristiana e nella sezione della preghiera c'è un bellissimo un bellissimo spaccato che è un copiato io lo trovai in una chiesa mi ricordo bene di Pozzuoli ci fece una foto c'era un bellissimo antichissimo manifesto i dodici atteggiamenti del corpo nella preghiera li spiega uno per uno con le palme delle mani verso l'altro con le mani giunte con le mani incrociate con le mani intrecciate in ginocchio rilassato sui calcani ognuna di queste posizioni parla e dice a Dio qualcosa ed è adatta per un certo tipo di preghiera ecco se uno volesse fare un po' di come dire restyling e di revisione della preghiera consiglio la lettura forse di questa cosa però dovrò pensarci di estrapolarlo questa cosa magari faccio un articolo del blog non lo so se ci sta sul blog dovrò andare a controllare perché sto penso che potrebbe essere una cosa utile anche da mandarla in versione in versione ridotta e con questo concludiamo questa questa meditazione che forse non troppo come dire non troppo spirituale però penso che di argomenti per la revisione di vita e per fare un bel esame di coscienza ce ne sono abbastanza bene signore Gesù grazie infinite oggi altissima formazione voglio la tua grazia e la tua bontà ecco concederci di interiorizzare profondamente quanto ci hai detto per il nostro bene e ovviamente da mettere in pratica queste cose cominciamo a prendere consapevolezza seria di come dobbiamo forci dinanzi al padre perché non siamo certamente più grandi di te anzi da te abbiamo appreso e impariamo come forci dinanzi all'altissimo e all'onnipotente magnificat anima mea dominum te exultavi spiritus meus in deo salutare meo qui respecti tumiditate mancilla sua eccennium exopeata medicent omnes generazioni qui affrici mici magna qui potenses sanctum nomineus misericordiae eus approgenio progenio estimenti luceum qui ci potenze in bracchio su dispersi superbos mente cordis su deposit potentes desede et exaltavi tumines sorientes implate bonis e divides dimisit inanes su scepi d'israel poverum suome ricordatus misericordiae sua sicuramente a padres nostros amra la segna eus in sé gloria patria figlio spirito santo scuterati in principio nonc'et sempre et in secola secolorum amen aggiungo stili grazia su nico nesteos con diversi beneficis tuis qui estregnasi in secola secolorum amen deus tet novi sua pace in vita meternal amen audentur jesus et maria nos comproletia benedicat virgo maria 1 Grazie.